Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui su GTA V perché voglio riniziare assieme a voi la serie dei Crash Test di GTA V Così da divertirci, da essere proprio sadici, da essere proprio cattivi, da essere gente strana Quindi signori spero che questo ritorno per chi magari ha già visto la serie in passato vi piaccia In generale se proprio il video vi piace io vi invito a lasciare un bellissimo like a questo video Iscrivetevi al canale e lasciate mille, mille, uno, zero, zero like Uno, zero, zero Un altro zero in più Beh siccome ho i capelli un po' di merda approfitto del fatto che io in passato ho comprato questo cappellino qui Guardate quanto è bello, lo santo Siamo qui quindi con questi veicoli che mi avete consigliato su Instagram Mi avete detto utilizza questi veicoli tipo questa qua che non mi ricordo neanche il nome Ma mi pare che si chiama Taipan Ed ecco qui altri veicoli, ad esempio questa è la Krieger del nuovo DLC Oppure c'è la SEA di Lester Che non so per quale motivo volete vedere la macchina di Lester che si sfracella E c'è un veicolo blindato per vedere la sua resistenza Direi di iniziare dal veicolo del nuovo DLC ovvero la Krieger Sperando che si distrugga come si deve Eccoci qui, come potete vedere qui c'è la pressa meccanica Una sorta di pressa meccanica che andrà a distruggere il nostro veicolo Perché come potete vedere lo schiaccia Lo compatta direi di inaugurare questo video con questa nuova bellissima macchina La Krieger che tra l'altro deve ancora uscire su GTA Online Eccoci qua, direi di entrare dentro questa pressa meccanica Non appena abbiamo l'opportunità Oddio, sta esplodendo già Madonna quanto, cioè Esci, esci, esci Stacca, stacca Spegni Spegni Spegniti maledizione Oh cazzo Vediamo i primi danni Ma io la voglio ancora stressare di più questa macchina Solo che stava esplodendo Quindi ho fatto un attimo il retromarch Alla parte frontale che è diventata quasi irriconoscibile E tra l'altro dietro è stata schiacciata totalmente Completamente storta e distorta Non riesco neanche più ad entrare nel veicolo Perché il gioco me lo impedisce Mannaglia la miseria Passiamo ad un altro veicolo Alla Sultan RS L'auto che a me piace un sacco Direi di entrare Magari questa volta lo facciamo a rallentatore, signori Esattamente Perché riesco a mettere il gioco a rallentatore E quindi vediamo un attimino Non appena si libera un varco Ecco qua Bene Cominciamo a rallentare tutto Vai Godiamoci lo spettacolo a rallenti Ecco qua Boom È bellissimo a rallenti È bellissimo perché vedi la distruzione totale Guarda Franklin Oh mio Dio Boom Madonna Intanto c'è il computer che mi sta morendo Cioè mi sta chiedendo pietà Sento proprio le ventole che stanno morendo Guarda dietro che cazzo Che cos'è Ragazzi se vi piace quindi questo video Questa serie in generale Fatemelo sapere con un bellissimo commento E con un bellissimo like Che io voglio continuare assolutamente Voglio mettere veicoli su veicoli Sotto test e sotto tortura Direi di uscire con Franklin Che poverino Stanno arrivando i po' fie Mi stanno arrivando Arrivando ad aiutare What the fuck Vediamo il veicolo Mamma mia È cambiata totalmente l'auto È una Sultan Mini Guardate non esiste più parte del veicolo Cioè è diventato il motore di una Fiat Panda Infatti c'è scritto Fiat ora Boh è strana Povera auto mi piaceva un sacco prima Ora ancora di più Continua a camminare tra l'altro Cioè guardate quanto sono più affidabili queste macchine giapponesi No non continua a camminare Però non è esplosa Punto in più Dovrebbero fare così il crash test nella vita reale Così da capire se un'auto è sicura o meno Cioè questa qui stava per esplodere Questa qui almeno non voleva esplodere Cioè quasi Cioè c'è del fumo che non mi convince molto Infatti allontaniamoci che è meglio Passiamo ad un'altra auto Un'auto che Prima o poi tutti ci saliremo Qui dietro tecnicamente ci dovrebbe essere una bara Credo che la persona che sia all'interno Che è morta Morirà ancora di più E se non è morta morirà Ecco stiamo entrando piano piano Ci stiamo facendo Largo Ecco qua Oddio Ma che cazzo è di successo Che cosa è successo Un attimo di pazienza È diventata una low rider È diventata una di quelle auto bassissime Ora ci rientro di nuovo Ma giusto per farvi capire Che è stata mezzo secondo All'interno lì E si è storta In mille modi Si è storta in mille modi possibili La barra non c'è più Come ho detto all'inizio Infatti Povero cristiano Gli interni però sono ancora dritti C'è ancora I fiori sono intatti L'unica cosa che sono intatti Mi sono appena accorto Che la webcam Ha smesso di registrare Poco fa Perché si è scaricata Però continua a camminare Ed è l'unica macchina Che continua a camminare Certo se ne va molto verso sinistra Attenzione Attenzione Ma sbaglio Si è allungata tantissimo la macchina Cioè non era così lunga Allora Ambarava cicicocco Le scimmette sulco Mo Questa qua Il caracara Vediamo questa auto Se è abbastanza sicura Per noi Già si è schiacciata leggermente Ma comunque resiste Resiste abbastanza Sta resistendo E oh Che cazzarola è successo Ok eccoci Siamo dentro Oh cazzo Siamo quasi nuovo fuori Che cosa sta succedendo Che non ci sto capendo niente Sta esplodendo Oh mio dio Esci Esci Dove cacchio è? Sparita Oh mio Continua ad andare Continua ad andare Mi sa che mi tocca Fa di nuovo il pompiere Spegni Spegni Non ho capito purtroppo Cosa è successo Perché È successo tutto così All'improvviso Non si capisce Che cacchio Sta facendo questo Ma che Perché mi ritrovo Un coso in mano Devo dire che comunque L'auto È rimasta piuttosto intatta Cioè nel senso Sì più o meno Cioè non c'ha più una portiera Non c'ha più un motore Perché è saltato Ha preso fuoco Non c'ha Meno male che c'ha ancora le ruote Però Però va Va È bellissima senza portiere Cioè io vorrei quest'auto Senza portiere Almeno Cioè entra più aria Non devo usare l'aria condizionata D'estate no? Ok L'abbiamo spostata Dirigiamoci verso la Taipan Onestamente non mi ricordo In che DLC è uscita Quindi Fatemelo sapere voi Qui sotto nei commenti Ed eccoci qua Siamo dentro Siamo dentro Signori Godiamoci lo spettacolo Signori Ma do peccato che si accappottano Cioè devo trovare un metodo Per farle rimanere Fisse sull'asfalto Così non si girano così Anche se guardate Oh mio dio Che cacchio sta succedendo Il gioco sta rincoglionendo Eppure questa sta più a fuoco Ok Direi di scende Non c'ho più l'estindore Quindi dobbiamo farla spegnere Per i fatti suoi Intanto diamoci un'occhiata Totalmente storta Cioè non è più in linea Un cazzo di niente Guardate i fari Sono totalmente storti E guardate anche il di dietro Perché non c'è più un dietro La targa Si è ristretta Sembra Uno di quei fotomontaggi storti Di Photoshop Così Sembra quasi che si stia impennando Effettivamente Difatti si è storta In un modo totalmente strano Comunque ragazzi Qui sotto nei commenti Fatemi sapere Quali veicoli volete vedere Distrutti nel prossimo episodio Così da distruggere Quanti più veicoli possibili Ok Ora prendiamo la sea di Lester Perché è una macchina piccolina Leggera Secondo me E si distruggerà In una maniera incredibile E dopo proviamo Con il blindato Entriamo subito C'è un varco Ecco Che cac... Aspetta Aspetta Oh che cacchio Si è staccato di là Un pezzo di paraurti Esci Però è riuscita a resistere Altro che piccolina Leggera E quant'altro Minchia se continua ad andare Ah ma sta perdendo benzina Ma che figata Regà Ma perde la benzina È bellissimo Cioè io faccio un cerchio di fuoco Ora Ma guarda poi il fuoco Tra l'altro mi dovrebbe seguire Mannaria La miseria Cioè continua a camminare Già questo è un passo avanti Non so quando finirà la benzina Perché Cioè boh È infinita Non lo so Non ha preso fuoco Non si è distorta Neanche più di tanto Quindi questa è l'auto Più sicura al momento Cioè guardate tutte le altre Una esplosa L'altra ci mancava poco L'altra poi Porca puttana Quella del morto Non ne parliamo proprio Entriamo nell'insurgent Va che sicuramente Questo sarà quello più resistente In assoluto E proviamo E proviamo a vedere La sua resistenza Entrare ma Va bene Uuuuh Piuttosto viene sbalzato Cioè oddio Si qualche piccola deformazione Minchia Piccola deformazione Guardate le ruote Come si sono storte del tutto Ecco Siamo dentro Oddio Che sta succedendo È resistentissimo Veramente Sto veicolo Eh Aia Aia Però Sta subendo dei danni Sta subendo dei danni Guardate Oddio Oddio Che brutta fine Che sta a fare È più sicuro di tutti Però è un cacchio Di veicolo militare A momenti Cioè Uuuuh Ha fatto male questo Altro che veicolo militare Resistente Guardate È tempo È tempo di valutare I danni Scendiamo un attimo Io non capisco Che cos'è ora Questo veicolo Sembra una cosa Per grattugiare il formaggio Qua Non lo so perché Diciamo che la parte Centrale è rimasta Piuttosto intera Quindi ok È piuttosto sicuro Stare all'interno Chi stava qui dietro Non se l'è passata Molto bene È diventato un nano Guardate Ma che cazzo Mettiamola a confronto Agli altri veicoli E vediamo di fare Una classifica Di questo episodio Il primo veicolo Che abbiamo testato È la Krieger E direi di piazzarla Assieme alla Taipan Agli ultimi posti Perché Cioè Caspita Stavano esplodendo Invece La Sultan Direi che È uno dei veicoli Più resistenti In quanto Ok Si è distrutto tutto Però Non stava esplodendo E non ha perso Benzina La macchina del morto Direi che Manco meglio Classificarla Perché se sei il guidatore Che porta il morto dietro Ci muori pure te assieme Il Karakara È piuttosto resistente Si è comportato bene Un po' meglio Dalla Sultan Forse Mentre Questa qui Si classifica Diciamo al terzo posto Tra In mezzo alle macchine Più schifose Le macchine migliori Dato che comunque Ha resistito bene Ma Perdeva benzina Infine Come veicolo speciale Abbiamo questo Insurgent Che comunque Confermiamo La sua resistenza Il fatto che sia Piuttosto sicuro Diciamo Cioè almeno Da guidatore E da passeggeri E diciamo che è stato Il veicolo che è stato Più stressato In questo video Quindi Ha retto molto molto bene Spero che questo video Vi sia piaciuto Dove ho messo Sotto torchio Tutti questi veicoli Consigliatemi altri veicoli Da usare Nei prossimi video Del crash test Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale Se siete ancora iscritti Condividete questo video Sui vari social E noi ci vediamo Al prossimo Video E noi ci vediamo